Ciao a tutti, bentornati, io sono Morizio Parenzan, qui parliamo prevalentemente di carriera e lavoro. Oggi ho il piacere di avere con noi Marco Tosoni. Marco, ci siamo conosciuti tramite Giorgio, Mr. Rip, sicuramente lo conoscete perché Marco ha anche diversi contenuti, un canale in cui ha diffuso tantissime informazioni molto interessanti. E oggi voglio parlare proprio della carriera e degli aspetti importanti per fare una carriera di un certo tipo all'interno di aziende dove tipicamente si parla nei vari canali YouTube soltanto di un certo percorso. Per cui, Marco, benvenuto, grazie per la disponibilità e se vuoi velocemente un attimo introdurre qual è il tuo percorso, il tuo background. Grazie a te Maurizio per l'invito. Certo, allora, diciamo che io nasco professionalmente come software engineer, come programmatore, sono laureato in informatica. Ho fatto il programmatore per alcuni anni e poi la mia carriera si è spostata nell'ambito del project management, poi nel program management, sempre in aziende tecnologiche. Quindi ho iniziato in Alcatel Lucent, quindi nelle telecomunicazioni, e poi mi sono spostato in Google, dove sono rimasto per circa nove anni. A Google ho sempre fatto il program manager in diverse aree, sia lato infrastruttura che lato prodotto. Quindi ad esempio ho lavorato aspetti di privacy, aspetti di security, aspetti infrastruttura, ma anche su prodotti come Google Search. Ho lasciato Google perché ero appassionato del mondo cripto, e quindi sono passato a Kraken, una delle grosse digital asset exchange, una delle grosse exchange cripto. Sono passato a Kraken, dove sono rimasto per circa un anno, e adesso sto facendo l'advisor per startup tech. Quindi lavoro con diverse startup, al momento con quattro, se non sbaglio, sì, con quattro, diversi nell'ambito cripto e alcuni nell'ambito un po' più tech. Perfetto. Un dettaglio importante è che tu sei in Svizzera oggi. Io vivo in Svizzera, sì. Il percorso è stato fatto anche Google Svizzera, e questo credo che sia un dettaglio importante anche per determinate scelte, determinate opportunità. Sì, assolutamente. Sì, sì, mi sono spostato in Svizzera quando sono entrato in Google, quindi nel 2013. Perfetto. Io sono arrivato in Svizzera nel 2014, quindi anche nove anni anche lì. Senti, una cosa importante, perché tu hai parlato di essere program manager. Io mi accorgo che c'è molta confusione, no? Quando si tratta di project manager, program manager o product manager. Questo è dove le persone proprio vanno in palla, non hanno idea di quali siano le differenze. Ci vuoi spiegare un attimo, nella tua esperienza appunto, quali sono queste macro-categorie, così iniziamo un attimo a mettere in ordine le idee per chi ci ascolta? Certo, certo. Allora, è una cosa abbastanza comune, soprattutto perché, allora, adesso partiamo dalla differenza di questi tre ruoli. Però questa differenza è vera nel momento in cui parliamo di grosse aziende, multinazionali, aziende molto strutturate. Nelle aziende più piccole, startup o comunque aziende di medie dimensioni, questi tre ruoli tendono un po' a fondersi uno con l'altro. Quindi molte volte abbiamo, magari, una singola persona che si occupa di tutto quello che fanno questi tre ruoli. Quindi, parliamo della definizione, però. A livello teorico, cosa fa un project manager? Iniziamo dal project manager. Il project manager è responsabile di un progetto. Cos'è un progetto? È un'iniziativa che ha un inizio e una fine. Il progetto può essere costruire uno stadio di calcio, può essere lanciare un prodotto, può essere qualsiasi cosa che ti viene in mente. Un progetto ha un inizio e una fine. Il project manager è responsabile di fare in modo che il progetto arrivi alla sua conclusione all'interno di un certo budget che gli viene messo a disposizione, rispettando determinate tempistiche e, ovviamente, rispettando quello che è la qualità attesa, quindi lo scope che viene dato. Se bisogna costruire uno stadio o un palazzo di 50 piani, il palazzo deve essere di 50 piani. Non può essere il rimanere nel budget, rimanere nei tempi, ma, scusatemi, il palazzo è venuto di tre piani. No, ovviamente deve essere di 50 piani. Quindi deve essere... Questo è quello che fa il project manager. Ora, il project manager può gestire uno o più progetti in parallelo, dipende da quanto sono complessi, dipende dal tipo di azienda. Questo è quello che fa il project manager. È responsabile di portare un progetto al suo compimento. Un program manager, al contrario, oppure, diciamo come in aggiunta... Perché dico in aggiunta? Perché in molte aziende un program manager ha anche responsabilità da project manager, molte volte. Ma diciamo che un program manager è responsabile di un programma. Un programma è un'iniziativa che non ha solitamente un fine ben definito. Non è una cosa che deve durare un anno. È una cosa che si pone un obiettivo, molte volte un obiettivo di business. Un esempio può essere ridurre i costi aziendali dal 10%. Potrebbe essere un programma. O aumentare le vendite del 50%. O aumentare il numero di utenti su un determinato prodotto. Quindi ha un obiettivo che solitamente è un obiettivo di business, un obiettivo importante, quantificabile, misurabile. E per raggiungerlo, di solito, ha molti progetti. Quindi ci sono molti progetti all'interno di un programma che vanno a contribuire al raggiungimento di questo KPI o di questo obiettivo aziendale. Quindi un program manager può a sua volta gestire direttamente i progetti che ne fanno parte oppure avere in alcune aziende, i program manager gestiscono project manager dal punto di vista organizzativo e quindi i project manager responsabili dei diversi progetti possono riportare direttamente o in una struttura matrice, magari riportare solo per quanto riguarda gli obiettivi dei progetti. E l'ultimo è il product manager che ha un ruolo leggermente diverso, perché il product manager è responsabile del prodotto. Quindi responsabile del prodotto significa che è la persona che ha la responsabilità di decidere quali sono le priorità, quali sono le cose importanti per un specifico prodotto. Qui può essere un prodotto software, può essere un prodotto hardware, può essere l'iPhone come può essere un'automobile, anche se di solito vediamo ruoli da product manager più nell'ambito tecnico. Questa persona che competenze ha un product manager. Io dico sempre che i migliori product manager con cui ho lavorato sono visionari. Sono quelli che mi siedo, parliamo del prodotto e loro mi dicono delle cose che io neanche immaginavo. Dico, ah, mi lasciano bocca aperta. Sono quelli che sono in grado di, che hanno come competenze, capire il mercato. Quindi capire qual è l'opportunità del mercato, dove il prodotto deve evolvere, capire i competitor. Quindi cosa fanno le altre aziende o gli altri prodotti in questo settore, dov'è l'opportunità, riuscire ad avere una buona priorità di cosa deve essere il focus per chi lavora su quel prodotto, e poi lavorare di solito con un project o un product manager e con ovviamente gli ingegneri o il technical lead per fare in modo che si arrivi a quell'obiettivo. Non so se ho spiegato in modo esaustivo. Penso hai colto benissimo i punti. Infatti una delle cose, alcune volte ci sono persone che mi chiedono che ne pensi della carriera da PM? Fermo, intanto mi devi dire PM cosa intendi, che va dal pubblico ministero al project program manager. Ed è esattamente una delle cose su cui insisto maggiormente, perché io ho appunto sempre lavorato in aziende multinazionali strutturate. Adesso anche in Novartis c'è lo stesso discorso, perché spesso si ha la concezione sbagliata. Ah, voglio fare carriera manageriale, quindi faccio il project manager. No, cioè è un'opportunità, un punto di partenza, ma non è che la parola manager significa necessariamente manager come viene interpretato come gestione di risorse, personale e tutto. Quindi penso che sia importante che le persone inizino a realizzare questa logica di implementazione di una cosa specifica, implementazione di un trend, implementazione di una visione. e questo è proprio un livello che richiede competenze diverse e un livello di lavoro diverso, perché gli stakeholders e la tipologia di competenze e di risorse che bisogna mettere in campo nei tre ruoli è diverso e uno deve capire qual è quello a cui è più vicino, perché per esempio, come dicevi tu, il product manager che magari ha una visione più strategica più è, magari è la persona più lontana dall'operatività e dal dettaglio e dalla capacità di focus sul completamento che deve avere il project manager. Quindi penso hai descritto molto bene. Fammi, tu hai nominato magari il product manager, hai detto, ha una visione più strategica, è vero dal punto di vista di prodotto, ma ovviamente anche un program manager deve avere una visione molto strategica nel capire come raggiungere l'obiettivo, ok? Quindi diciamo che sono approcci diversi. Poi in quanto riguarda carriera, di solito il passaggio da project manager a program manager è abbastanza naturale con l'esperienza o magari anche semplicemente cambiando azienda, anche perché molte aziende hanno una definizione molto vaga di questi ruoli, quindi magari in un'azienda viene chiamata project manager dall'altra program manager, ma la differenza è proprio minima, quindi diciamo che come evoluzione di carriera è molto lineare e comune, il passaggio a product manager è leggermente diverso. Se poi parliamo di aziende che utilizzano Agile, vedrete spesso come terminologie, diciamo se utilizzano ad esempio Scrum, vedrete il termine product owner o Scrum Master. Allora, non è, non è, qui altrimenti il PMI mi toglie la certificazione, non si mappano uno a uno, un product owner non è un product manager e uno Scrum Master non è un project manager, però diciamo che il tipo di lavoro che fanno è molto simile, il product owner rappresenta il cliente, prioritizza le feature, capisce cosa è necessario, quindi molto vicino al concetto di product manager e lo Scrum Master va a fare in modo che il tutto avvenga, no? È responsabile dell'esecuzione, ma non in modo operativo. Esatto. No? Qui c'è una grossa opportunità strategica nel capire come andare a fare quel lavoro, perché molte persone con cui parlo di carriere mi dicono, eh ma io voglio fare il product manager o il product owner perché è più strategico, no? E la mia risposta è, non è vero. Allora, probabilmente tu stai facendo il project manager nel modo sbagliato o il program manager nel modo sbagliato, se non hai un approccio strategico all'esecuzione. Quindi per questo volevo dire, entrambe hanno la loro componente strategica. No, ma infatti io una delle cose su cui chiedo alle persone di fare attenzione è esattamente la... io parlo sempre di il modo di lavorare come se fosse a strati, no? Cioè tu quando inizi sei proprio sui task, proprio execution e tutto. E la cosa migliore per la carriera è sempre stirare un po' il collo e vedere cosa succede a livello sopra, no? Cioè tu devi fare i meeting con i tuoi colleghi e dai tot informazioni al tuo capo. Ma al più presto devi iniziare a capire il tuo capo che tipo di meeting ha, con chi parla, che tipo di informazioni condivide. E questo, quando inizi a farlo a vari livelli, inizi un attimo a capire qual è il senso di determinate cose e esattamente come dicevi tu, è anche nella tua esecuzione iniziale, se non hai idea di qual è l'impatto a livello di business, rimarrai chiuso nella lineare mattoncini Lego, mentre devi veramente capire qual è la parte più completa. Ora stavi facendo riferimento al Agile, Scrum, vuoi dare un attimo un accenno di che parliamo lì, giusto? Sì. In pillole se vogliamo. Agile è una metodologia, se non una filosofia, è particolarmente utilizzata nel mondo software, anche nel mondo hardware per quello riguardo al tech, ma sempre più si sta diffondendo in altri settori. Anche perché, diciamo che l'idea di Agile ha un manifesto, che raccomando a tutti di andare a leggerlo, l'Agile manifesto ha una serie di valori e poi ha dei principi che, vedrete, sono molto ad alto livello, perché descrive quelli che sono gli obiettivi e quelli che sono le priorità. Ora, Agile al suo interno ha molte metodologie. Scrum, che è quella che ho menzionato prima, è praticamente una declinazione di quello che è molto ad alto livello, l'Agile, in ruoli, regole, struttura, molto definita. Ok? Quindi lo Scrum è un'applicazione, al momento è l'applicazione della metodologia Agile più utilizzata e ha questa serie di regole e ruoli che spiega come va, diciamo, a... Pensatela come un'implementazione dell'Agile. Esistono molte altre. Tra i più conosciuti c'è Kanban, in alternativa, Extreme Programming è un'altra, spesso abbreviato come XP, Lean, che è molto utilizzato nel mondo manufacturing, esiste anche una Lean Software che richiama gli stessi concetti, ma sono tutte metodologie diverse, ce ne sono molte altre, che vanno a prendere i principi cardinal dell'Agile e implementarli, quindi a dare dei ruoli, delle regole, delle linee guida. Questo più o meno è... Ad oggi, diciamo che Agile si contrappone a quello che è il mondo waterfall, oppure detto anche predictive, perché? Perché nel mondo waterfall si fa tutta la pianificazione, tutta l'analisi dei rischi, tutto quello che serve all'inizio, e poi si fa solo l'execution. Funziona molto bene in mondi in cui c'è poca incertezza. Pensate a cose che sono state fatte centinaia di volte, devo rifarlo, è semplice, perché da un certo punto di vista i rischi sono sempre gli stessi, le attività che devono essere svolte ormai sono conosciute, quindi funziona benissimo la tecnologia waterfall. Agile si basa sul fatto che il software non ha questa caratteristica, non è predicibile, è difficile, ci sono troppi rischi che non sono conosciuti, e quindi provare a fare tutta la pianificazione iniziale risulta sempre in ritardi, problemi, consegne di prodotti software che non sono in linea con quello che il cliente voleva, c'è molta incertezza, e quindi Agile nasce proprio per dare un approccio alternativo soprattutto in ambito software. Poi si è visto funzionare bene, quindi è stato poi allargato anche altri ambiti. Senti, una domanda, perché io ho visto spesso le persone, soprattutto quando hanno intenzioni di fare una modifica nella carriera oppure il famoso periodo in cui non so che fare, la prima cosa è che ci si butta a studiare, no? Quindi, ma non so che fare, boom, mi iscrivo all'università online, mi metto qua e là, e soprattutto sulla parte project management, spesso vedo domande del tipo certificato qua, certificato là. Ora, in generale, io dico sempre attenzione, considerate bene quali sono gli obiettivi, perché non sempre curriculum che noi vediamo lato accademico, no? Tipo c'è uno a 30 anni e 35 anni, ah, sto lavorando, pensavo di fare questo, quindi mi iscrivo a online ingegneria per, che te ne frega di studiare analisi 1 o 2, fisica 1 o 2, piuttosto fai un percorso più specifico. mi sembra che la parte invece dal project management in poi sia quella dove è un po' più strutturato e ora, da quel punto di vista, quali sono, prima accennavi, no, alle certificazioni che hai, quali sono i percorsi di formazione o certificazione che consiglieresti da seguire, perché ovviamente devono avere una valenza. Io spesso dico, se siete in dubbio su un corso, cercate su LinkedIn chi l'ha fatto, cercate di capire se effettivamente, oppure chi segue, chi ha un ruolo a cui aspirate a quel tipo di certificazione, cercate di raccogliere informazioni. Ecco, nel tuo caso, quali pensi che siano veramente i punti su cui concentrarsi? Sì, allora, intanto io dico, sono completamente d'accordo con quello che dici tu riguardo al fatto che quando magari uno ha un po' di tempo si dedica a una certificazione, perché io stesso ho usato Agile per, penso almeno una decina d'anni e non sono mai, non ho mai preso una certificazione, il mese scorso ho deciso di fare la certificazione del PMI in Mondagiae, non lo so, perché è stato utile, assolutamente utile, mi ha dato molta struttura nelle informazioni che avevo già, molte cose le conoscevo, però è stato utile. Ora, tornando alle certificazioni, dipende uno cosa vuole ottenere e in che tipo di settore vuole lavorare. Allora, caso uno, persona che si avvicina al project management, non ci ha mai lavorato, non ha nemmeno la certezza di volerci lavorare, però pensa che sia una competenza importante per il suo curriculum, esistono molti, diversi corsi gratuiti, ce n'è uno pubblicato da Google su Corsera, se non sbaglio, che ovviamente è gratuito se viene completato all'inizio, le due settimane di prova di Corsera, imparo uno o due settimane, dopodiché ha pagamento, ma è pagamento nel Corsera, l'abbonamento a Corsera, quindi ha un costo abbastanza ridotto, è fatto bene, è abbastanza focalizzato sul mondo tech, quindi a chi si avvicina al project management e vuole capire, iniziare a capire un po' la terminologia e come funziona, è un ottimo corso che consiglio. Non è una certificazione, è un corso che forse si rilascia un certificato alla fine, però non è una certificazione, è semplicemente un training. Nel mondo delle certificazioni esistono diverse certificazioni, io, perché l'azienda per cui, quando lavoravo ai tempi di Alcatel-Lucent, l'azienda con cui tutti i project program manager venivano certificati era il PMI, il Project Management Institute, ho scelto la certificazione con loro, il PMI offre molte certificazioni diverse, ne esiste una entry level, che se non sbaglio si chiama CAPM, fammi controllare per vedere per evitare di aver detto sì, il PMI sta per Certified Associate in Project Management, è una certificazione entry level nel senso che richiede, se non sbaglio, non richiede esperienza da project manager, però potrei sbagliarmi, io non sono certificato CAPM, è una certificazione entry level, quindi aiuta chi vuole approcciare il project management, ma anche avere una certificazione che può tornare utile in ambito curriculum. Il livello successivo è il PMP, Project Management Professional, il PMP è ancora ad oggi considerata probabilmente la certificazione di riferimento in ambito project management, vedrete moltissimi annunci di lavoro richiedono o dicono fortemente raccomandato è candidato con il PMP, è molto orientata alla metodologia waterfall, quindi è molto un approccio non agile nel suo approccio, però è molto valida, nel senso che ha diverse informazioni, aiuta molto a capire il concetto dei rischi, la pianificazione, le risorse, tutto quello che un project manager deve sapere. Ora, il PMP richiede un tot, non ricordo esattamente qual è la richiesta, ma un certo numero di anni di esperienza in project management, quindi che deve essere certificata, quindi nel senso è, diciamo, è autocertificata, però loro fanno degli audit a campione, e nel momento in cui viene fatto un audit, vengono richiesti tutti i contatti, eventuale documentazione, contattano tutte queste persone, quindi ha una serie di requisiti. Quindi questo più o meno, poi ce ne sono molte altre, ok, adesso non entriamo nel, ma diciamo queste sono quelle principali, poi invece se uno si approccia al mondo agile, anche lì c'è, uno può scegliere, io personalmente ho scelto quella del PMI, che si chiama ACP, Agile Certified Partition, questa certificazione è più rivolta a chi ha esperienza in agile e esperienza in project management, quindi simile a quella del PMP richiede esperienza da project manager più esperienza in mondo agile, non deve essere per forza esperienza come scrum master o qualcos'altro, può essere anche semplicemente un ruolo da ingegnere all'interno di un team che utilizza agile, il vantaggio di questa certificazione è che copre un po' tutto lo spettro delle metodologie, ma in modo abbastanza ad alto livello, quindi se invece siete interessati a, non so, scrum, la scrum alliance ha una certificazione alla scrum master, quindi potete andare direttamente a studiare e essere certificati in mondo scrum, e ce ne sono molte altre, quindi potete andare a scegliere safe, ad esempio, è una molto in voga perché viene utilizzata in molte aziende, anche lì safe ha una loro una loro certificazione e potete andare a prendere quella specifica se siete interessati a quella specifica metodologia. Interessante, grazie, queste informazioni molto utili. Ora, volevo toccare una parte per me importante, la tua esperienza in Google, tu sei entrato direttamente in Google non con un ruolo di programmazione, giusto? Ma direttamente? No, io sono entrato come program manager. Esatto. Ora, penso che questo sia una cosa interessante perché io quando vedo contenuti su Google sembra che l'unico modo per essere in Google sia programmare e ci puoi un attimo raccontare la tua esperienza, cioè qual è il tipo di lavoro perché appunto lì hai il discorso di quello di cui parlavamo prima, cioè la programmazione è la parte, se vogliamo, il prodotto finale, però tutto quello che c'è dietro. Io faccio sempre un esempio che fa imbestialire i miei colleghi ingegneri quando dico che il capo di ingegneria non fa l'ingegnere, cioè il capo della divisione di ingegneria non è che sta a programmare le valvole, a disegnare le valvole che quelli sotto di lui non sanno disegnare, è una persona che si deve occupare di gestione delle risorse, strategia, combattere contro le altre divisioni per ottenere priorità e tutto. Ora, questa tua esperienza in Google, anche molto importante come responsabilità e come durata, come iniziata e qual era la caratteristica tipica del lavoro? Ok, vorrei fare prima una nota. Google è un'azienda molto tecnica, quindi il lavoro, la competenza tecnica è riconosciuta e valorizzata. Io stesso sono entrato in Google come program manager ma una parte del mio lavoro era tecnica, quindi hanno ovviamente anche nella fase di selezione verificato che io fosse in grado di lavorare in un ruolo che fosse a diretto contatto con gli ingegneri con la parte tecnica. Detto questo, il ruolo del program manager in Google e ad esempio Google ha pochissimi project manager per la natura di quello che fa quasi sono rarissimi i lavori di project manager, i ruoli da project manager se non sbaglio in passato Street View aveva ruoli da project manager perché lì mappare la Sicilia piuttosto che mappare il nord degli Stati Uniti è un progetto è un progetto anche molto complesso immagina devi inviare le automobili dogane trasporti devi avere le licenze c'è una componente analogica proprio è proprio c'è molta c'è una parte complessa da gestire quindi c'erano project manager che gestivano questi progetti ma al di là di quello che io sappia pochissimi project manager in Google perché? Perché il lavoro è molto più un lavoro di program management di gestione di obiettivi di gestione di quelli che sono determinati sì obiettivi che il team ha può essere un obiettivo di prodotto può essere un obiettivo aziendale ora per far questo non basta essere tecnico ovviamente la parte tecnica serve perché è perché aiuta in parte a crearsi una reputazione di un certo tipo e nell'altro dall'altra parte è molto utile perché aiuta a capire di che cosa si sta discutendo ok essere in un meeting in cui viene presa una decisione importante che va a impattare il futuro di un determinato prodotto e non capire di che cosa si stia parlando perché è un meeting tecnico impatta negativamente l'abilità del program manager di effettivamente raggiungere l'obiettivo perché l'unica cosa che può fare è ascoltare non capire alla fine del meeting chiedere se la decisione è stata presa annotare la decisione chiedere qual è stata la decisione ah ok quindi la decisione è che Marco dovrà fare questa cosa bene e andare a fare un follow up con Marco per essere sicuro che Marco faccia quella cosa ho visto project manager lavorare così il loro contributo nella discussione è abbastanza limitato e quindi anche la loro capacità di avere un impatto positivo è molto limitata quindi torniamo al discorso la competenza tecnica aiuta molto detto questo io ho visto persone che non hanno assolutamente nessuna competenza tecnica fare molto bene in un ruolo da program manager in google perché perché utilizzando le loro soft skill quindi tutte quelle che sono le loro capacità di gestione dei progetti ma anche le capacità di leadership riuscivano comunque ad avere un contributo positivo all'andamento del progetto che tipi di contributi tipicamente le aziende grosse hanno problemi quando si cominciano a si creano progetti che impattano diverse aree aziendali quando questo avviene la complessità dovuta al fatto che diverse parti dell'azienda con priorità diverse ovviamente che lavorano con manager diversi che magari sono anche fisicamente localizzati in parti diversi del mondo che tutte queste parti rimangano allineate e contribuiscano come da piano è la possibilità che questo avvenga è molto bassa perché perché le priorità cambiano le persone lasciano i manager cambiano idea è molto difficile quindi essere sicuri che tutto questo questo progetto avvenga nel modo giusto e facendo la fine consegnando quello che ci si aspetta richiede molto lavoro di coordinazione ma non solo non è semplicemente chiedere a tutti i team cosa avete fatto questa settimana scrivere un report e mandarlo a tutti è capire quali sono i problemi a volte al di là di quello che il team ha capito essere il problema a volte ci sono ci sono sintomi che il team vede possono essere non riusciamo a fare qualcosa ma il team stesso non capisce il perché quindi il program manager deve fare un lavoro per andare a capire insieme al team insieme magari ad altri esperti qual è la vera causa di quel problema e fare in modo che l'azienda lo risolva questo è il vero valore aggiunto che poi viene riconosciuto dal team perché il team dice ah se non ci fosse stato Marco non saremmo riusciti a farlo questa cosa perché Marco ci ha aiutato a ottenere le risorse che ci servivano a fare in modo che quel team dall'altra parte dell'azienda ci mettesse a disposizione un esperto che quel team dall'altra parte dell'azienda facesse questa parte che ci serviva anche se non era una loro priorità ma siamo riusciti a convincerlo a farlo tutto questo di attività tutto questo tipo di attività è qualcosa in cui il program manager può avere un impatto molto importante perfetto no questo è tra l'altro hai fatto una citazione precisa delle classiche cose cross functional progetti ed è una delle delle attività che io ho sempre ritenuto quelle più importanti e interessanti almeno per il tipo di carriera e di competenze che ho metto sul piatto quando quando riesce a vedere cose che gli altri non vedono proprio perché avendo una visione più d'insieme magari ti rendi conto di o dove ci sono sovrapposizioni o dove ci sono dei buchi perché per x motivo guarda tu ti stai occupando di questa parte quello di quello ma manca l'anello di congiunzione oppure sta per arrivare come dicevi tu questo plateau a livello di risorse disponibili e non è una cosa che sblocchi in due settimane per cui devi per forza lavorarci da due mesi prima per facilitare decisamente interessante come situazione e una domanda perché il discorso dello sviluppo di queste competenze prima parlavamo prima della registrazione parlavamo della tipologia di carriera perché una delle cose a volte le persone hanno l'idea che io ho una laurea in ingegneria quindi sono un ingegnere quindi sono un tecnico quindi è quello mentre chi fa queste cose altre competenze io dico sempre ragazzi cioè la laurea è il punto di partenza poi nella vostra carriera lavorativa imparerete l'equivalente di dieci lauree come esperienza come formazione come tutto quello che è il mondo reale lavorativo e questo ovviamente è dove si ha una decisione a un certo punto io decido di diventare verticale o di fare aggiungere altri tipi di competenze che sono quelle che mi portano a poter coprire determinati ruoli qual è la tua esperienza e il tuo punto di vista su queste scelte quanto chiudono o aprono le opportunità a seconda del mercato dell'azienda o dei ruoli e anche qual è stata la tua scelta a riguardo partiamo dal presupposto che dipende molto dall'azienda ci sono aziende ci sono realtà in cui se non diventi un manager non esiste una carriera arrivi a un certo punto oltre il quale per assumere ulteriori responsabilità o avere una promozione devi diventare un manager purtroppo esistono molte realtà di questo tipo Google non è una di queste quindi una persona può arrivare a un livello altissimo senza dover gestire delle persone perché perché il loro contributo invece che se era un contributo di tipo manageriale è un contributo di tipo tecnico ci sono dei personaggi in Google che sono ricercatori molto famosi non gestiscono delle persone però sono delle persone che hanno inventato delle tecnologie che adesso sono utilizzate da tutti quindi l'azienda deve mettere le persone nella condizione di fare questo perché se l'azienda ti dice oltre questo livello o diventi manager o non verrai più promosso ovviamente l'incentivo per tutti è diventare manager qual è il problema di questa cosa? che non tutti siamo bravi e portati per fare manager perché come per tutti i lavori servono una serie di di skill una serie di capacità che non tutti hanno ma questo vale per qualsiasi tipo di lavoro e il manager non è un'eccezione servono determinate caratteristiche i manager peggiori che ho visto nella mia vita erano esattamente i manager che non volevano fare i manager erano i migliori al mondo in quel lavoro erano i migliori magari dell'azienda a fare quel lavoro e l'azienda ha pensato bene siccome tu sei il migliore a fare questo lavoro tu diventi il capo di tutti quelli che fanno questo lavoro ma è scelta fu più sbagliata perché questa persona amava fare il lavoro non amava gestire le persone e quindi questo poi si ripercuote sul modo con cui questa persona va a fare il manager quindi questo per dire se l'azienda lo permette ognuno deve fare la propria scelta e decidere voglio continuare a crescere professionalmente in modo verticale quindi specializzandomi su una determinata tecnologia o su diverse tecnologie oppure voglio specializzarmi più in modo orizzontale che può essere un ruolo di leadership o magari ci sono dei ruoli come quello del project manager o del program manager che sono meno verticali ma che permettono di lavorare con molte più tecnologie questo significa che non si potrà più essere degli esperti in tutte le tecnologie ma si dovrà sviluppare la capacità di lavorare in aree dove non si è degli esperti che non è una cosa banale molte persone non amano essere in discussione di cui non sono degli esperti penso quasi tutti noi bisogna sviluppare la capacità di gestire quelle situazioni essere in grado di avere una discussione anche se non si è l'esperto di quella tecnologia io personalmente ho scelto la seconda quindi ho scelto di diventare sviluppare la mia carriera in modo più orizzontale con ruoli inizialmente da project manager poi program management e poi ruoli di leadership sia in google che in kraken perché? perché a me a me piace molto avere a che fare con molte persone risolvere problemi di tipo organizzativo molto più che risolvere il problema di tipo tecnico anche se la parte tecnica mi piace e continuo e continuerò spero per il resto della mia carriera lavorare in aziende tecniche la parte tecnica quando parliamo di software mi piace molto mi affascina ma la mia parte più orizzontale la mia parte un po' più di soft skill è quella che mi appaga maggiormente e quindi ho fatto questa scelta professionale però non significa che questa sia meglio dell'altra è stata una mia scelta io sono convinto che fare quello che ti piace ti appaga maggiormente ti permette di metterci più energia e se ci metti più energia farai molto meglio ok fare un lavoro semplicemente perché dal punto di vista di carriera potrebbe avere un ritorno più alto e a forte rischio di dopo qualche anno non avere più l'energia per portarlo avanti guarda concordo su questo ed è una delle cose per me io sono in una situazione simile anch'io poi l'ho ritrovato come concetto all'interno del libro di David Epstein Range quello che hanno tradotto in generalisti in italiano esattamente quello come dicevi tu a un certo punto è una scelta cioè dei 20 blocchi delle nostre competenze che formano la nostra carriera uno ce l'ha dato l'università gli altri 19 li scegliamo noi se sono impilati o sono distribuiti e questo è un punto per me fondamentale perché ovviamente veramente determina le scelte a tendere ogni tanto ci sono delle persone che dicono soprattutto chi inizia a lavorare diciamo ma sai vado mi butto in consulenza perché così poi faccio un bel curriculum e poi posso andare a fare il lavoro che mi piace cioè c'era purtroppo non mi ricordo quale imprenditore americano descrisse questa cosa come it's like saving sex for the old age no è esattamente iniziare a lavorare nel settore che ti interessa di meno perché pensi che possa capitalizzare qualcosa per farti fare cioè perché lo farai male o lo farai soffrendo lo farai con delle friction che devi assolutamente evitare quindi una delle cose per me più importanti è capire che si deve capire come lavoriamo al meglio cioè io quando ho iniziato a lavorare non avevo la minima idea che ci dovesse essere un momento in cui dici ma a me piace di più fare A o B perché pensavo che la mia carriera fosse il mio titolo di studi la mia laurea in ingegneria elettrotecnica no e quindi devi fare questo impianti ho avuto la fortuna di iniziare come primo ruolo in un ruolo non tecnico come ufficio acquisti e quello mi ha fatto iniziare a pensare ma c'è altro al di fuori del tecnigrafo e di AutoCAD e penso sia un punto fondamentale come dicevi tu capire come lavoriamo al meglio e in base a quello fare determinate scelte e determinate azioni è molto importante il passaggio che hai fatto cioè uscire da Google e credo sia molto al di là della sfida ovviamente della scelta però uscire da una società così grande così strutturata così tutto perché Google ha tutte queste caratteristiche e poi entrare nel nel mondo di progetti diversi startup consulenza quanto è stato quanto è stato grande il Delta quanto l'esperienza di Google sia come ex Googler che come competenze ti sta supportando quali altre competenze hai dovuto sviluppare o com'è stato questo passaggio partiamo da un presupposto io mi sono lasciato benissimo con Google io sono se dico sempre ai miei amici ed ex colleghi che sono tutte in Google se ci dovesse essere l'opportunità giusta col progetto giusto di una cosa che davvero mi piace sarei anche disposto a considerare rientrare in Google assolutamente prendiamo questo presupposto però è anche vero che quando ho fatto la scelta di lasciare Google era qualche anno che seguivo il mercato cripto la tecnologia mi affascinava e volevo in qualche modo e ho trovato questa combinazione un ruolo molto interessante sono andato a creare la funzione globale di program management per Kraken in un'azienda che era più piccola di Google ma comunque aveva una certa dimensione parliamo di più di 2000 persone a livello mondiale nel settore cripto che era quello che mi interessava e volevo quindi la combinazione di questi tre fattori quando ho visto questo ruolo ho detto non posso passare no? non posso passare perché è troppo interessante nonostante in Google stessi bene stessi benissimo in Google però ho deciso di fare questo tentativo ora molto di quello che ho fatto in Google mi è tornato utile soprattutto la mia competenza in ambito program management l'esperienza che ho fatto nel creare team diversi aspetti dal punto di vista dello sviluppo di prodotti software quali sono le tecniche che funzionano più o meno di altre tutte queste cose me le sono portate mi sono state molto utili d'altra parte mi sono trovato in un'azienda con una cultura aziendale molto diversa perché ogni azienda ha il suo modo di il suo approccio i suoi valori quindi ho dovuto imparare come operare in un'azienda che ha dei valori diversi ho dovuto imparare di più sulla tecnologia perché il mio lavoro era lavorare con il CTO lavorare con il chief product officer lavorare con queste persone e la mia competenza il fatto che capissi perché determinate determinate attività erano una priorità rispetto agli altri presupponeva il fatto che capissi abbastanza della 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 tecnologia quindi sono andato anche a imparare aspetti della tecnologia aggiuntivi che poi mi sono tornati molto utili perché come ti dicevo adesso in realtà come advisor lavoro principalmente con aziende cripto e quindi mi sono tornati molto utili d'ora in poi cosa succede cioè per quello che ovviamente puoi condividere perché tu hai ovviamente questa 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 carriera no con un un colosso poi in una progetto età come vedi la tua non solo l'implementazione a livello di ruoli ma anche a livello di crescita c'è qualcosa su cui vuoi puntare che sia o formazione o esperienza a livello di mercato di prodotti di geografie allora partiamo dal dal fatto che quello che faccio adesso mi piace molto nel senso che sto lavorando con startup e mi piace molto però c'è un ma c'è un ma perché io non sono mai non sono mai contento quindi c'è sempre c'è sempre infatti avevo riconosciuto questo il ma è che faccio il mio ruolo è un ruolo da advisor quindi principalmente il mio ruolo è quello di consigliare i fondatori o gli executive di queste startup su quali siano le decisioni giuste come affrontare determinati problemi mentre le mie sono opinioni infatti vi dico sempre voi siete dovete anzi essere in disaccordo con me ogni tanto perché altrimenti non funziona io dico la mia opinione voi siete liberi di dire Marco no mi spiace stavolta non ti ascoltiamo facciamo come vogliamo noi però quello è il mio lavoro è quello di aiutarli in queste decisioni aiutarli con determinate problematiche questo è molto sfidante è molto divertente ma dall'altra parte io sono sempre stato una persona a cui piace fare e essere in questa condizione in cui il mio contributo quasi completo a queste aziende è il dire a loro cosa fare e non il fare in prima persona un po' comincia a dirmi magari alla lunga mi piacerebbe tornare a fare no? non ho ancora l'età per star seduto in panchina e allenare vorrei magari qualche calcio al pallone e darlo darlo ancora quindi mentre da una parte sono contentissimo di quello che faccio dall'altra devo essere sincero se ci fosse l'opportunità giusta in un'azienda che mi piace un ruolo interessante eh why not? alla fine a priori non non chiudo nessuna porta poi ovviamente deve essere l'azienda giusta l'opportunità giusta mi deve piacere ecco deve accendere devo avere quella scintilla no? perché devo vederla devo parlare con le persone come la combinazione di prima no? dei tre fattori esatto devo essere una cosa che mi piace un ruolo che mi piace le persone per me contano molto le persone forse l'ottanta per cento forse l'ottanta è troppo ma il sessanta settanta per cento della mia decisione sono le persone con cui devo andare a lavorare eh chi è il mio manager eh chi sono le persone con cui lavoro chi è il mio team eh quello per me fa molto quindi se c'è quella scintilla del sì mi piace ci dovrò spendere molte ore al giorno sì le voglio spendere con queste persone quello mi può far pensare valutare altre cose dal punto di vista di sviluppo cosa vuol dire eh il grosso della mia carriera l'ho fatto in aziende di dimensioni importanti grosse aziende eh però il mondo delle start up è molto intrigante nel senso che ha questa capacità di fare le cose velocemente ha la possibilità di prendere rischi che le grosse aziende non possono prendere eh c'è tutta una serie di aspetti che è molto intrigante nel lavorare con le start up eh e quindi non ho non sono certo di quale tipo di azienda voglia avere in futuro se magari una non proprio una piccola start up ma magari qualcosa di un po' più eh una scale up qualcosa di che abbia una certa dimensione già eh o una grossa azienda non non ho non ho una decisione a priori dipende molto da altri fattori eh poi vedrò e su questo immagino sai io sono stato eh sette anni in Svizzera sono tornato a Roma da due anni per per altri motivi a me della Svizzera aveva sempre affascinato il dinamismo che vedevo non ci lavoravo direttamente però avevo diversi colleghi e persone che conoscevo che erano appunto nel nel mondo start up nel mondo innovazione anche tu immagino hai riscontrato questa è un è un livello infatti io neanche lo sapevo ma la Svizzera quando c'è quel ranking delle nazioni sulla parte innovazione è sempre nelle top tre cioè succedono tantissime cose in Svizzera anche da questo punto di vista sì sì aiuta molto il fatto che comunque l'ETA quindi l'ETH è una una delle università più quotate a livello mondiale quindi hanno molti studenti che si laureano con ottime idee e l'ETH direttamente oppure ci sono altre strutture che supportano queste idee aiutano la creazione di nuove aziende sì aiuta molto io ad oggi lavoro con quattro aziende che si occupano di sono incubator o accelerator per start up di diverse dimensioni alcune si rivolgono proprio alle start up molto piccole e lavoro anche con l'ETA quindi anche con l'ETH lavoro anche con loro supporto alcune start up che escono da loro sì c'è molto più innovazione non perché gli svizzeri siano più innovativi ma perché è molto più facile fare innovazione in svizzera hai la struttura che ti supporta hai magari più accesso alla competenze è diciamo più facile però devo anche dire che ho visto ottime eccellenze anche in Italia quindi non ne farei un discorso geografico ecco ne farei più che altro un discorso di supporto che viene dato dallo Stato a questo tipo di start up benissimo allora Marco io voglio veramente ringraziarti penso che in questa quasi ora abbiamo affrontato degli argomenti per me molto interessanti e soprattutto mi affascinava molto il tuo punto di vista avendo questa esperienza articolata con una bella logica dietro quindi era una delle cose che mi attraeva maggiormente nel tuo profilo professionale e per chi volesse contattarti rintracciarti il modo migliore per scrivermi o per raggiungermi è su LinkedIn direttamente mi trovate e scrivetemi o potete seguire ogni tanto cerco di postare qualcosa ogni tanto su LinkedIn di interessante principalmente parlo o di aspetti cripto o del mondo tech startup questi i project management questi sono gli argomenti principali non sono una persona che scrive giornalmente fatico a scrivere settimanalmente un post quindi non aspettatevi grossi volumi se vi interessa mi trovate lì e potete scrivermi lì perfetto grazie tantissimo grazie a chi ci ha seguito fino a questo momento vi ricordo se questi argomenti vi piacciono iscrivetevi al canale fate tutte quelle cose che si devono fare in questi casi grazie ancora Marco e noi ci rivediamo al prossimo video ok grazie a te Maurizio ciao ciao